Autonomia, rigore e trasparenza, queste le parole d'ordine della Banca Tercas che questa mattina nel corso di una conferenza stampa tramite il direttore generale della Banca, Dario Pilla, ha definito il progetto di bilancio e le linee guida del piano d'impresa 2012-2014 del piano strategico. I risultati del bilancio non comparabili a quelli del 2010 dopo l'acquisizione di Banca Caripe ha prodotto comunque un utile. Dettati da criteri di estrema prudenza anche per effetto del mercato e della crisi, la politica di bilancio non poteva che essere rigorosa e prudente. Noi abbiamo deciso di essere prudenti rispetto a quelli che sono gli scenari di deterioramento dell'economia reale, per cui vogliamo garantire massima trasparenza in quello che facciamo. La fiscalità di Caripe è chiaramente impattato, sia in positivo che in negativo, così pure in maniera significativa quello che è stato il rischio dello Stato sovrano, perché i titoli di proprietà, per quanto ovvio, hanno avuto alcune minusvalenze. Io credo che il 2011 sia proprio da spartiacque, perché il 2012 sarà ampiamente profittevole. Il primo trimestre si sta muovendo nella giustissima direzione. La rete ha trovato un'energia incredibile e sta dando dei risultati commerciali inaspettati. L'applicazione sia del piano strategico che l'evoluzione del piano di impresa saranno determinanti. Le energie che sono uscite, come dicevo prima, dal nuovo modello organizzativo, soprattutto dei mercati, si stanno già vedendo e stanno già ampiamente dando delle risultanze maggiori rispetto a quello che potevano essere le più rosee aspettative. Il piano industriale accompagnato dal piano strategico verrà presentato entro la fine dell'estate 2012. Per il primo anno sono già stati definiti gli obiettivi economici e di redditività con un ritorno all'utile nella misura di 14,3 milioni di euro. Punto fondamentale sarà il riequilibrio degli attivi da ridistribuire nel tessuto dell'economia reale del territorio a vantaggio di imprese, artigianato e commercio locale. Previsto inoltre un rafforzamento di capitale. Quanto sarà il rafforzamento di capitale? Noi abbiamo preso una delibera fino a un massimo di 60 milioni. Questo ci permetterà di aumentare significativamente il tier one. Ci saranno altre iniziative di capital management che andranno ancora di più a rafforzare questo. L'obiettivo che ci diamo è quello di arrivare alla fine del piano di avere un tier one almeno dell'8%. L'obiettivo numero uno è l'autonomia della banca. Direi che abbiamo sottolineato la logica dell'obiettivo. Spesso e volentieri si sentono dei rumors che parlano delle cose più strane. Io voglio tranquillizzare il nostro territorio dicendo che la banca è del territorio e resterà nell'ambito del territorio. Non abbiamo mire espansionistiche.